Italia 4, ragazzi. Rab, buongiorno. Rab, tu hai detto che se non sono d'accordo con lo stato della polvere, io devo chiedere oppure devo sollevarmi per mezzo dell'importanza del Boree. Ma se non ho la forza e né la voglia per usare la fede al di sopra della ragione, cosa mi può aiutare al fine di aggrapparmi e andare contro questa natura? Chiaro che tu non puoi uscire da solo da nessuna condizione o situazione che ti trovi. E quanto questa condizione sarà ogni volta più avanzata, sarà ancora più difficile di superare, accettare, realizzare nulla. Sarà molto più difficile. Soltanto a causa che tu chiedi dagli amici che ti aiutino. Soltanto al momento che tu ti includi da loro. Proprio di preghi a loro, insieme a loro. Sei in grado di questo fare insieme con loro. Però il Signore? State attenti. Attenzione. Il Signore che ci dà a ognuno di noi l'appesantimento del cuore. Non riceve, non prende in considerazione che lui dà questa una persona. No. Lui prende in considerazione che lui dà a tutta la decina attraverso quella persona. Tutta la decina riceve. Per questo l'uomo non è in grado da solo di fare nulla contro la situazione. Che il Signore guarda la decina in forma generale. Soltanto. Così, come collettivo. Vede la decina il Signore. E la decina, la decina, la decina a te, a lui, a me. E così è. Per questo noi dobbiamo comprendere. Oh, cos'è cascato su di me? Guai. Non è su di te caduto? È caduto su di te? Perché tu ricevi l'aiuto di tutta la decina. Prendi questo e realizzi dentro la decina. Vedrai che ottimo. Che facile prendere in considerazione. Scusatemi. Prendere in considerazione. L'unica cosa difficile è comprendere che è stato dato ogni decina attraverso di te. E che tu devi connetterti con loro. Soltanto la connessione con loro. Casi su di me, per esempio, diciamo, 200 kg di qualcosa che io devo mantenere e reggere. Non so non riesco a reggere 200 gradi. Però hai 10 persone intorno a te. 10 persone che ognuno fa elevare 20 kg di questo. Non è tanto grae. Potremmo farlo tutto insieme. E così sempre. Mai il Signore non manda a noi qualche appresentimento del cuore che è destinato soltanto a me personalmente. È destinato alla decina soltanto. Non mi vede a me come singolo. Lui mi vede attraverso la decina. A te è attraverso la decina. Lui è attraverso la decina. Soltanto in questa forma. Latin Free Latin America 3 Lui è attraverso la decina. Lui è attraverso la decina.